Il materiale non scarseggia affatto qui. Potrai usare gli attrezzi come armi per essere pronta quando sarà il momento. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. 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 Non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Cosa? Un po' è rozza, ma è meglio di niente. Non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla.